gentili telespettatori buona giornata parla draghi che ha detto che ha detto che ha detto che muo vediamo ecco dice qual è la decisione di draghi perché alla fine sapete che i ministri sono delle marionette insomma questa è la realtà il governo è draghi e draghi è il governo non ci sono i ministri sono occupano dei posti prendono uno stipendio ma chi decide su tutto e su tutti e lui l'uomo della provvidenza mario draghi nel bene o nel male decide tutto lui fa finta di ascoltare aspetta che ascolto quel poi decide tutto lui che cosa ha deciso dice non ho ancora deciso vedrò i dati di omicron ma voi sapete che questo numero di contagi non è dato dalla variante omicron è dato dalla variante delta e questo non ci avevate pensato sono 80 casi di variante omicron in italia e 30.000 contagi 80 casi e 30.000 contagi vuol dire che 29.920 sono dati dalla variante delta matematico watson è bene draghi dice ringrazio schulz per gli elogi ma ma chi è schulz e sarà dovrebbe essere il cancelliere tetesco che dice sulla nostra campagna di vaccinazione lo ringrazio ma ancora c'è da lavorare a essere attenti perché la germania elogia l'italia come dire fossimo come loro in cabina di regia questa roba della cabina di regia mi fa venire un nervoso consiglio dei ministri si chiama la cabina la cabina di regia mi sembra una cabinovia per quelli che vanno a sciare mi dà un fastidio va bene parliamo del consiglio dei ministri di questa settimana dice draghi passeremo in rassegna o passerò lui dice passeremo al plurale ma passerà in rassegna in rassegna eventuali provvedimenti in vista delle vacanze di natale non ho deciso ancora nulla aspetto fino a mercoledì o giovedì dati di sequenziamento per vedere come avanza la variante omicron così mario draghi in conferenza stampa con il cancelliere tedesco olaf scherz che ha definito la politica dell'italia sui vecini un esempio luminoso una luce dalla germania quando guardano draghi vedono una luce intensa dice qualcosa di divino no è arrivato finalmente lo aspettavamo da da duemila anni è tornato un esempio luminoso lui draghi con tutte le stelle dell'europa intorno luminoso ancora c'è da lavorare dice però draghi si deve procedere con la massima velocità alla terza somministrazione terzo giro bene pertanto draghi non si sbilancia fino al 23 ma da voci di palazzo non a di adesso ma già di qualche giorno l'ordine di draghi a tutti è zitti non dite niente non dite che faremo obbligo di qui non dite nulla quando abbiamo deciso alle sei del pomeriggio gli diciamo da mezzanotte di stasera è così punto e basta rivederci grazie spegnete le luci andiamo a casa questo è quello che vuol fare draghi no niente cose mediatiche notizie che escono prima per evitare draghi i soliti ministri sottosegretari o chiunque sia quelli che cantano i giornali in cambio di qualche cento euro no perché le notizie che hanno i giornali che poi sempre si avverano cosa credete che abbiano la palla di vetro abbiano dei medium che si concentrano no ci sono dei politici che cantano ai giornali cantano dice io mangio la pasta cantano nel senso che vanno a spiattellare tutto in cambio ovviamente di un contributo per le spese consigli per gli acquisti qualche 100 euro giusto per fare i regali di natale draghi che cosa ha detto stavolta ha capito che c'è qualcuno che canta o più persone che cantano nel governo no allora che cosa ha detto non ho deciso lo decido il 23 proprio non ha detto ma proprio potremmo fare questo adesso vediamo i dati faremo questo ha detto non lo so le proposte sono lì sul tavolo perché quelli che cantano i giornali hanno già preso le proposte e li hanno spiattellate i media pertanto i media e già da una settimana che dicono e c'è la possibilità di estendere il super green pass anche per andare a lavorare quindi a lavorare ci vai col vaccino e forse vogliono fare il lockdown dal 25 al 6 di gennaio l'altra proposta è il lockdown per 20 primi 20 giorni di gennaio e poi l'altra proposta mettiamo i tamponi per i grandi eventi ecco le proposte e poi vabbè l'obbligo vaccinale per tutti 5 che mi sto ricordando adesso è 5 che mi ricordo così a memoria tutte queste proposte sono sul tavolo di draghi e diciamo i politici che cantano i giornali li hanno spiattellate quando draghi ha detto ma cacchio cribio ma che fate io ho le proposte sul tavolo e i giornali li stanno scrivendo li stanno battendo in questo momento per filo e per segno e allora non dico più niente e allora cari ministri qualcuno di voi canta qualcuno di voi mi ha tradito mi tradirà prima che il gallo canti due volte allora non dico più niente dice ma presidente ma quale proposta naturalmente quello che canta cerca presidente ma quale proposta è più e quale un po' più e un po' meno e draghi che ha capito che uno di loro canta o più di persone cantano dice non lo so ma ma ce ne sarà presidente una che preferisce dai che devo andare a telefonare al giornale no non saprei devo vedere i dati e beh draghi ha preso i suoi provvedimenti e non dice più niente fino all'ultimo minuto le proposte non le ha potute nascondere perché le proposte le hanno discusse coi ministri quindi il classico ministro che canta i giornali era lì li discutevano perché devono discuterle quindi le proposte finiranno sempre sui giornali ma le decisioni draghi non le prende in anticipo e non dà opinioni sulle proposte dice ok queste sono le proposte dopo ci penso in modo che il ministro sottosegretario chiunque sia che canta i giornali gli si impedisce la la cento la cento euro e dai manco manco la cento euro mi fai guadagnare draghi e dai no come mi diceva come mi diceva uno quando facevo il militare di napoli e dai mangi cani dammi che c'hai la mille lire vincitore la mille lire no e dai mangi cani ho capito che mi diceva ma neanche i cani si comportano così che non mi danno mille lire perché i tempi nel 93 c'erano le mille lire no diceva dai mangi cani come dire ma neanche i cani si comportano come te che non mi danno mille lire no c'ho questi ricordi del passato arrivederci a tutti e grazie